Sì, non c'è l'avete. Lavorano nell'ombra, ogni tre mesi il loro arrivo non è registrato dal grande pubblico e i loro nomi non compaiono in nessun titolo di coda. Anonimi per professione, i loro sforzi tendono a rimanere invisibili. Oggi però ci occupiamo di loro, figure di spicco del precariato internazionale, gli staggisti. Siamo a New York, Rai Corporation, nel dipartimento di produzione di ITG. Da questi uffici si lanciano le notizie dall'America. Ogni giorno, nelle case degli italiani, appaiono i corrispondenti vere star televisive. Attorno a loro, gli staggisti, ectoplasmi del giornalismo, animali del dietro le quinte, eppure, forse, indispensabili. Nessun luogo può essere considerato l'habitat naturale dello staggista più dell'archivio. Qui, nell'intrico di corridoi, scaffali, beta, cassette, xdcam, la staggista si muove in perfetta disinvoltura, vero angelo custode del materiale. E quando arriva il momento di agire, non manca mai di trovare il file desiderato. Durante le interviste in esterna, la staggista si rivela un sostegno prezioso, una vera colonna portante del lavoro della truppe. Un ruolo carico di responsabilità. Nella sala di montaggio si lavora, lottando contro il tempo. Il pezzo deve essere consegnato, la deadline incalza e sale la tensione. La staggista sa quando intervenire e il suo valido aiuto è sempre riconosciuto e apprezzato. Lo staggista è per definizione temporaneo, diventerà presto un giornalista e dall'ombra passerà alle luci della ribalta. Da New York è tutto, la linea allo studio. Perfetto, allora noi adesso intanto incidiamo il pezzo e poi ci mettiamo presissimo a bracci e a bracci. La presenza invisibile dello staggista può a volte materializzarsi, come un fantasma non è corpo, ma solo voce. Cosa ne pensi degli stagisti? Ma cioè, voi avete anche studiato giornalismo, non riuscite a venirvene fuori con una domanda migliore. Frequently nice to meet all of the new people. Ci accontentiamo, ci accontentiamo sempre. Creativity and energy. Two thumbs up. Fantastic. Grazie della compagnia, delle riflessioni. Il segreto secondo me è... È il momento che devono andare via. The key, in my opinion, is initiative. Andate a controllare questi clics di cam, per cortesia. Schiavi. Secondo me state da un posto molto più triste la corporation senza l'intership e senza tutti gli inter. Qua? Puoi essere un po' più preciso? Io penso che è un'ottima esperienza. Utile. Alcuni i stagisti possono essere di ispirazione e altri un po' meno. Io penso che gli stagisti sia. Dai, tu cosa diretti? Favo una cosa. Non sapevo che c'era un internship a Ray Corporation. Se lo sapevo avrei... Avrei partecipato, insomma. Congratulations. Beh, basta, di noi basta così, basta così. Beh, basta, ti ch� grade. No! Grazie a tutti. Grazie a tutti.